Scambio elettorale politico mafioso appoggio marino, la DDA di Napoli ordina l'arresto di tre persone. Il sindaco Maurizio Falanga, il vice sindaco Luigi Belcuore e l'imprenditore Franco Carillo, fratello dell'assessore Maria Carillo e in passato consigliere, sono stati arrestati questa mattina all'alba dai carabinieri di Torre Annunziata. I tre, tutti agli arresti domiciliari, sono stati coinvolti nell'inchiesta partita a dicembre scorso incentrata sulle accuse del boss pentito Rosario Giuliano, detto minorenne. Il capoclan, oggi collaboratore di giustizia, ha ammesso di aver influenzato il voto e di aver ottenuto appalti dai suoi referenti in municipio. Grazie per la visione! Grazie per la visione!